Robi Maragliano sottonotte a giocare a Berinzono perché giocare in quel campo mi gasava quando ero giovane, adesso mi gasa ancora di più perché sono più forti di prima e con questi qua gioco bendato, sono riuscito anche a fare gol e porta solo Armando Ceroni che mi fa la telecronaca e inizio anche tu mi fai i due massaggi, ti aspetto Robi